Dai rollo con Dominique Gisin, intanto ci dici che cosa hai fatto tutta questa annata senza sci? Ho fatto altre cose, comunque ho sciato abbastanza molto a casa in Engelberg, anche un po' sul circo con la sorellina ma adesso sono a studiare in Surrigo, allora c'è altre sfide nella mia vita. Cos'è che stai studiando? La fisica. A che punto sei? È il primo anno, davvero all'inizio, fa piacere, sono tutti i giovani ma è duro. Senti hai guardato la stagione di Coppa, peraltro ha vinto una Svizzera. Certo, bellissimo, per la Lara ha fatto una stagione davvero bellissima, tecnica perfetta in tutte le disciplini e con risultati geniali, tantissimi risultati geniali, è davvero merito. Quella Coppa è il massimo che si può vincere. E tu sei contenta della tua carriera, hai qualche rimpianto? Eh, penso era un viaggio particolare ma era perfetto per me e sono contenta, adesso ho una nuova vita e va bene. Quindi non stai pensando di tornare? No, penso no, no. Sono troppo vecchia e va bene. C'è abbastanza giovane che sono così veloce che va bene per me. La sorellina cresce bene? Esatto, esatto, anche il fratello e tanti altri. C'è un tempo per tutto. L'ultima cosa, in Italia ci viene ogni tanto? In Italia si scia, sì, sì, certo. Prova di tornare a Cortina, l'anno prossimo, quest'anno mi mancheva davvero. Vediamo. Grazie mille Dominique, ciao. Grazie a voi, ciao.